La morte non è nulla, sono solo andato nella stanza accanto Mi chiamo Richard, ho 32 anni e ho deciso che voglio arrivare ai 34 Da quanto sa di essere seropositivo? Due anni Sono Tim E io e John Tu e John non vi potete più vedere E tu non puoi più essere invitato dal Calero Nel 1979 noi eravamo immortali Il mondo intero era ai nostri piedi E nessuno ci avrebbe tolto quello che ci eravamo presi dall'alto dei nostri tacchi a spillo John 2117, Tim 2118 Sei in piedi, gli occhi chiusi, i capelli bagnati che incorreggiano il tuo bel peso, i volti mi vedi Come definirebbe la sua sessualità, omosessuale, bisessuale, transessuale John, io non ti giudico, ma questa storia credo che abbia dell'assurdo Ha avuto rapporti sessuali e appoggiamento per i sei mesi Sei, gli uomini che diventano intimi o che vengono penetrati sfidano il patriarcato Pratica sessuale Adesso le farò un prelievo del sangue, i risultati saranno pronti tra un paio di settimane All the things you do to me Sono terribilmente dispiaciuto Siete entrambi positivi Voglio stare sveglio per tutta la vita Poi voglio vivere un giorno un'avventura E voglio costruire una macchina del tempo e tornare indietro Voglio trovarla e sconfiggerla e portarti con me per sempre Essere sfiniti e felici Di sparire Non provare più niente Io non voglio fare sesso, è così che ci siamo finti dentro Mi accroci il mio sguardo Mi fai un mezzo sorriso Quando mi hanno rianimato prima di tornare Io per un attimo non ho sentito più niente Ed era così facile Gioco Sorride E penso Lo so Lo so La scena Quando so Mi hanno rianimato Mi hai Tu Mi hanno rianimato I just don't get enough I just don't get enough